Il corso di laurea magistrale in chimica clinica forense e dello sport che nasce da un'esigenza di tipo lavorativo, ossia la necessità di avere dei chimici che siano specializzati in alcuni ambiti abbastanza particolari, di natura sicuramente analitica, ma maggiormente orientati verso quello che è praticamente il mondo dei campioni di origine biologica. Quindi parliamo di campioni che possono derivare dalla fisiologia umana e quindi c'è tutta la chimica clinica, la fisiologia, ma anche la patologia ovviamente, tutto il mondo che ruota attorno ai laboratori di analisi clinici. Tutto quello che riguarda gli aspetti legali, quindi andiamo dall'analisi delle droghe di abuso, fino a cose correlate, ma anche a campi un pochino più estesi, come ad esempio l'analisi degli alimenti e quello che riguarda l'alimentare. Essenzialmente questo perché, specie al nord, la richiesta di chimici che abbiano una specializzazione, campo analitico sicuramente, ma applicato a matrici di tipo alimentare è in forte crescita. Dunque, il corso di laurea, ammesso che riesca a far scendere la diapositiva in maniera efficiente, essenzialmente ha quindi questo obiettivo formativo di dare un carattere di tipo analitico alla vostra laurea, ma poi rimane pur sempre una laurea chimica. Quindi, non solo si trova lavoro nei campi che ho detto, ma poi alcuni laureati hanno tranquillamente trovato lavoro in campi che sono completamente diversi, tipo l'automotivo, per fare un esempio. Ci sono quindi degli insegnamenti formativi che sono focalizzati fondamentalmente agli aspetti analitici nei campi che ho detto, e poi degli insegnamenti complementari che completano un po' la cosa, ad esempio degli insegnamenti in campo giuridico. Questo proprio per dargli un carattere. Per venire ai corsi, per dare un'idea un pochino più precisa, abbiamo insegnamenti nei primi tre semestri, quindi il primo anno e metà del secondo, per la ragione che ha espresso prima la mia collega per quanto riguarda materiali, ma per chimica forense non può essere diverso, cioè il quarto semestre deve essere dedicato possibilmente già a sviluppare la tesi di laurea, che ricordo è sperimentale. Quindi abbiamo degli insegnamenti chimica analitica clinica e forense, divisi ad esempio un modulo di tecniche cromatografiche e un modulo di chimica analitica clinica, dei metodi, diciamo, un insegnamento di chimica analitica strumentale e chemiometria, quindi essenzialmente abbiamo gas cromatografia che non può essere coperta dalla parte di cromatografia fatta nel corso prima, e poi spettrometria in massa e una componente di chemiometria che oramai sta diventando irrinunciabile per chi si trova a operare con le strumentazioni moderne, che tipicamente buttano fuori i dati e i numeri a profusione. Poi avremo una chimica delle macromolecole focalizzata anche ai processi combustivi, perché è un aspetto molto importante della chimica forense. Abbiamo ovviamente della chimica farmaceutica riferita fondamentalmente a sostanze da bus e dopanti, perché un minimo di chimica organica di queste sostanze bisogna conoscere, non solo di chimica organica ma di vera e propria chimica farmaceutica. Avremo poi l'ampio campo delle tecniche di tipo chimico-fisico di investigazione applicata alla chimica clinica e forense, quindi delle spettroscopie e della microscopia. Poi avremo delle metodologie biochimiche, ovviamente della genetica molecolare, perché oramai la genetica molecolare e tutto quello che riguarda l'analisi del genoma in campo forense è diventato ultraimportante. E per ultimo avremo anche degli elementi procedura penale, non tanto perché non si sa mai cosa ci può capitare, quanto piuttosto perché il chimico forense un minimo di preparazione giuridica lo deve anche avere, se non altro perché alcuni possono poi finire a fare i periti e l'attività del perito è fortemente condizionata da come si svolgono i processi e quant'altro. Al secondo anno, quindi, il terzo semestre è un po' un completamento e vede analisi di tipo tossicologico e del doping sportivo, quindi essenzialmente una chimica analitica ma fortemente focalizzata su matrici di un certo genere. Abbiamo le importantissime risonanze magnetiche e diffrazioni di raggi X e poi, ultimo, un esame che in realtà è un corso a seminari fondamentalmente, che è l'esame della scena del reato e criminalistica forense. Per chi di voi ha potuto parlare con gli studenti degli anni precedenti sa benissimo che in alcuni casi l'esame della scena del reato assomiglia tantissimo a un giorno in pretura, per certi versi. Vengono tuttavia delle persone provenienti dalla polizia, dai carabinieri e quant'altro che portano dei casi reali e il bello del corso è proprio questo. Abbiamo poi dei crediti liberi per ben 14 CFU e ovviamente si può pescare tra un numero quasi infinito di corsi attivi nella scuola di scienze sulle lauree magistrali. e noi consigliamo quattro esami che sono più strettamente collegati alla forense che sono la diagnostica chimica nei beni culturali, però focalizzata, ad esempio, non so, per darvi un'idea a quello che è la validazione della autenticità di una firma su un manoscritto. Per fare un esempio, metodologie botaniche microbiologiche applicate ai beni culturali, sì, ma con un aspetto verso, appunto, gli argomenti di cui stiamo parlando, poi due nuovi corsi, uno che entrano in atto dall'anno a venire che è chimica bioorganica dei bioconiugati, che è una fortissima importanza per quello che riguarda la chimica clinica, ed è un corso, malgrado, sembra essere un corso di chimica organica, solo metà di chimica organica, l'altra metà è un corso di chimica analitica e poi abbiamo un corso nuovo che è l'esperto scientifico nel processo penale e che si sposa un po' col corso che abbiamo visto prima di procedura penale. Per ultimo c'è la possibilità, anzi quasi, la necessità di dover fare un certo numero di crediti in stage esterno in impresa, che può essere impresa privata, oppure un ente pubblico, l'unica limitazione non può essere l'università. Per ultimo arriva la tesi di laurea, che deve essere necessariamente una tesi sperimentale, vale 29 CFU, può essere svolta qui da noi, nei laboratori del Dipartimento, e ovviamente non conta dove l'andate a fare, nel senso che potete benissimo andare a fare una tesi di chimica dell'ambiente, nulla osta, purché ci sia un minimo di, diciamo, aggancio. Può essere fatto nel Dipartimento del nostro Ateneo, ma anche in altre strutture di ricerca di altri Atenei, altri dipartimenti, se qualcuno, ad esempio, qualche studente viene da Roma, nulla vieta di fare una tesi a Roma. Ma possono anche essere enti pubblici, non universitari, il CNR, l'IZS, le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco, oppure anche aziende private, che hanno interesse a sviluppare un certo argomento di tesi. Abbiamo, ovviamente, poi, conseguita la laurea, c'è poi una formazione post laurea, questo è il numero, diciamo, dei, insomma, il voto di laurea che viene in media conseguito tutti gli anni, non fatevi spaventare dalle barre che sembrano oscillare tantissimo, per se guardate i numerini, il voto medio di laurea è molto alto, il più basso, statisticamente, negli ultimi otto anni, e il risultato è essere un 108 di media, quindi direi che, in genere, la qualità degli insegnamenti è molto alta. E la formazione post laurea si va poi a tradurre in percentuale dei laureati, in un numero abbastanza ingente di laureati che continuano con master vari, in genere non a Torino, devo dire, ma anche un certo numero di studenti che poi continuano la sua carriera di studente in dottorato, o a Torino, o anche in altre strutture, in alcuni casi anche all'estero, non ci sono grosse difficoltà a intraprendere una cosa del genere. Parlando di sbocchi professionali, dai dati che arrivano da Alma Laurea, quindi sono dati abbastanza consolidati, abbiamo che il 75% in media dei laureati negli ultimi anni ha trovato lavoro nel comparto farmaceutico, alimentare, o delle strumentazioni scientifiche, e la parte restante, tra il 20 e il 25%, laboratori privati di analisi, sia in campo clinico che in campo agroalimentari, i laboratori di analisi pubblica, l'ARPA, cioè le agenzie per la protezione ambientale, gli zooprofilattici, e c'è una piccola quota, essenzialmente inferiore al 5%, in realtà, che ha trovato lavoro nelle forze pubbliche. Per sgomberare subito il campo da un equivoco, la laurea in chimica clinica, eccetera, eccetera, forense clinica, eccetera, dello sport, non apre una via preferenziale ai concorsi in polizia o nei carabinieri. Cioè, voi entrate nelle forze di polizia, nei carabinieri, esattamente come entra chiunque altro, qualsiasi altro cittadino italiano, chiaramente avere una laurea del genere, al momento in cui poi ci sono dei concorsi interni per passare in un laboratorio di indagini forense, avere una laurea di questo genere, aiuta, ma non aiuta al momento del concorso statale pubblico, quindi. Per quanto riguarda i tassi, beh, ricordo anche che il 75% dei laureati trova lavoro nel nord-ovest, per ragioni varie, non ultimo la forte concentrazione dell'agroalimentare nel nord-ovest. Per quanto riguarda il tasso di occupazione, sui dati di Alma Laurea, dopo una piccola flessione non grande, a un anno siamo sempre stati al di sopra del 90%, quest'anno, o meno, l'ultimo anno di Alma Laurea, ha dato il 100% di occupazione, compreso chi ha continuato però con i master e i dottorati, che vengono inseriti da Alma Laurea all'interno, diciamo, degli occupati, cioè di disoccupati, fondamentalmente non ne fabbrichiamo. A cinque anni non ho riportato il grafico, essenzialmente, perché a cinque anni il 100% dei laureati lavora, e quindi non aveva senso riportare un grafico del genere. E abbiamo poi anche l'efficacia professionale, che viene valutata a Alma Laurea, in un modo che mi è totalmente oscuro, ma so che è un parametro molto utilizzato, e essenzialmente l'efficacia professionale della laurea è piuttosto elevata, come si vede abbastanza agevolmente da questi numeri. C'è una laurea che nel mondo del lavoro viene considerata importante, una laurea che pesa nel lavoro che poi si va a fare. Raramente si vanno a fare cose che non hanno niente a che fare con la nostra laurea.